salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video ricollegandomi ragazzi al video precedente quello che ho caricato qualche ora fa in cui spiegavo cosa sta succedendo alla rete internet qua da noi che sta collassando perché comunque nelle rimanere a casa tutti ovviamente andiamo a utilizzare tanto la rete internet domestica e quindi andare a saturare quello che è diciamo la disponibilità della rete internet qua nella nostra nazione soprattutto perché stiamo guardando un sacco di video un sacco di streaming di film cioè tutto questo ovviamente fatto in maniera molto più diciamo importante rispetto al nostro solito e uno dei motivi per cui sta succedendo tutto questo e non è uno scherzo è anche colpa di Pornhub perché Pornhub ha aperto una pagina chiamata Forza Italia We Love You in cui offre il suo servizio premium a tutti i residenti in Italia per un mese il suo modo per aiutare noi italiani a intrattenere il tempo che passiamo nelle nostre abitazioni visto che non possiamo più uscire in qualche modo il tempo va intrattenuto quindi Pornhub ci viene incontro con questo servizio è incredibile diciamo quasi surreale sicuramente ironico ma è una cosa concreta quindi la rete internet già stava collassando sicuramente dopo questa offerta di Pornhub la rete internet proprio crollerà totalmente perché gli accessi probabilmente aumenteranno in dismisura appena questa diciamo pubblicità di Pornhub arriverà un po' a tutti quindi ragazzi questo era solo un piccolo video per dirvi come tante attività soprattutto diciamo attività online stanno cercando di venire incontro alla situazione che abbiamo qua che comunque è una situazione critica e grave è anche una situazione che ci obbliga a dei comportamenti a livello di stile di vita a cui non siamo abituati quindi ragazzi questo era solo un video veloce perché ci tenevo a mettervi al corrente di questa cosa che sicuramente sembra quasi surreale ma è così quindi ragazzi se questo video in cui vi ho portato questa novità per quanto riguarda Pornhub gratuito è una versione premium qua da noi in Italia vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale Telegram Offerte se lo avete ancora fatto e se vi va e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video e un buon recensione sul tutorial e una novità ciao 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 ciao